A volte per fare la cosa giusta bisogna rinunciare a ciò che vogliamo di più. Tutti i giorni mi sveglio sapendo che più gente cercherò di salvare, più nemici mi farò. Posso dimostrare che sono finalmente! Chiunque può indossare la maschera. Ma quello che conta è come si indossa. What's up, Danger? Files! Ci facciamo un giro? Oh, what? No, un attimo. Esiste una squadra con tutte le migliori Spider-Persone. Chi è quello nuovo? Incredibile. Questa è la lobby. Miguel Loara. Tutto questo è una sua idea. Che si deve fare per entrare nello Spider-Team? Tu non puoi farne parte. E non cominciare con il Dottor Strange e il piccolo nerd su Terra. 19,99,99! E dai, facci piano col ragazzino. Ha avuto un insegnante terribile. Peter! Miles! Mayday! Hai un figlio! Non puoi doverlo, non puoi doverlo. Ora ci penso io. Miles, essere Spider-Man è un sacrificio. What's up, Danger? Devi scegliere tra salvare una persona o salvare un intero mondo. mandami a casa. Non lo posso fare. Farò entrambe le cose. Spider-Man riesce sempre. Non sempre. E lo zio Ben? Se non fosse per lo zio Ben, la maggior parte di noi non sarebbe qui. Can't stop me now! Non puoi scappare per sempre! Non posso perdere un altro amico. Miguel, non avevamo detto questo! Lo sapevi? Tu non sai che cosa stai facendo! Tutti non fanno altro che dirmi come dovrebbe andare la mia storia. No! Fareò a modo mio! A tutte le unità, fermate Spider-Man! Sono io! Sono io! Allora ho guardato mio zio e... Dunque, vediamo... Era morto?